Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokerge Est. Oggi si è conclusa la TuttoFood, esperienza sempre di eccellenza, un'esperienza che mi ha permesso di portare i miei clienti russi da alcuni produttori, mi ha permesso di conoscere nuove realtà produttive italiane, perché l'Italia è sempre un mondo da scoprire, mi ha permesso di trovare aziende che ho cercato a lungo su internet ma non ho trovato, mentre in realtà erano presenti qui in Fiera, risolto situazioni con la stretta di mano, situazioni che si erano un po' irrigidite per motivi commerciali, ma qui la Fiera è una piazza che permette di risolvere problemi di business e problemi di relazioni. Quindi continuo sempre a sostenere che la Fiera è uno degli strumenti migliori per fare business, per le pubbliche relazioni, per promuovere il Made in Italy e siamo contenti di avere la possibilità di essere sempre presenti in questi eventi. Quindi con serenità, con gioia e soddisfazione abbiamo concluso questa quattro giorni veramente intensiva di Fiera. Raccomando a tutti di partecipare il più possibile alle fiere, per proporre i propri prodotti e per cercare i propri clienti. Noi vi salutiamo, mettete il like sotto questo video, se volete avere uno strumento in più per affrontare il mercato russo, la nostra consulenza è a vostra disposizione, per essere presenti in un mercato comunque in forte crescita. Nonostante le difficoltà, questo noi lo evidenziamo sempre, ma ci sono molte opportunità interessanti. Arrivederci e iscrivetevi al canale.